subito convalidato il primo segnale dall'esterno cerca di portarsi al comando tiburon mentre marca un breve errore vulcano spin che ora ripete così come tessa us e allora tiburon leader nei confronti di viburno debutic poi terza posizione per village people all'esterno invece c'è van gogh sm che cerca di andare in avanti dal secondo nastro il più veloce simon foto sm poi un jet doc che allargò il piagrifo ancora show di casei insiste allargò van gogh sm si oppone tiburon che difende la posizione di testa tiene il contatto viburno debuti mentre van gogh sm attacca tiburon ora tende a passare dopo 600 metri di gara in 45 8 e il nuovo leader van gogh sm su tiburon viburno debuti poi ancora in corda village people sul quale ha spostato all'esterno simon foto sm in anticipo su un jet doc poi ancora show di casei ulpiagrif all'inseguimento si ricongiunge tessa us simon foto sm gratatamente risale al lato di tiburon che segue sempre van gogh sm nella scia di simon foto sm si migliora un jet doc che all'interno viburno debuti quindi village people can fuori show di casei siamo ormai in vista del paletto degli 800 finali con van gogh sm battistrada al suo esterno simon foto sm che ora lo attacca e lo sopravanza e tende a passare prova a seguirlo un jet doc quindi tiburon viburno debuti show di casei simon foto sm che è passato lo insegue un jet doc in terza ruota scatta viburno debuti anticipando show di casei e aggirando tiburon simon foto sm in vantaggio in seguito però da un jet doc che sposta al suo esterno anticipando le mosse di viburno debuti e di show di casei poi tiburon van gogh sm e ulpiagrif che si avvicina un jet doc deciso all'attacco di simon foto sm quando siamo all'ingresso e il retta arrivo un jet doc che attacca a fondo simon foto sm che prova a reggere la corda sbaglia viburno debuti poi show di casei quindi ulpiagrif un jet doc che insiste all'attacco di simon foto sm tende a passare poi show di casei e ulpiagrif un jet doc in vantaggio su simon foto sm show di casei e ulpiagrif nel finale un jet doc che si stacca da simon foto sm e show di casei vince un jet doc su simon foto sm per il terzo show di casei sul palo apparigliato da ulpiagrif i due concludono in linea per il terzo posto vince un jet doc numero 12 francesco gentile insalchi davanti a simon foto sm numero 11 per il terzo c'è foto fra gli altri due penalizzati e cioè ulpiagrif numero 13 show di casei numero 10 rivediamo il sorpasso vincente di un jet doc ai danni di simon foto sm che si era liberato del leader van gogh sm nel finale conclude netto un jet doc su simon foto sm mentre per il terzo ulpiagrif la vedete sul palo all'esterno appariglia completamente show di casei foto stretta per il terzo alla quinta di capannelle l'arrivo è 12 11 poi foto 13 10 per il terzo posto linea allo studio profiletso profiletso profiletzto profiletso profiletso profiletso